La Commissione è convocata questa mattina per parlare sempre della problematica dello sversamento di liquami nel mare di Pescara. Che cosa è venuto fuori? È emerso che nelle altre 11 volte in cui si è rotta questa fognatura provvisoria sono stati sversati liquami nel fiume per 6-12 ore mediamente per ciascun intervento che è stato utilizzato all'OxyStrong in altre occasioni. Quindi vuol dire che in questi mesi purtroppo il fiume Pescara è stato invaso da liquami in diverse occasioni. L'ultima, il 28 luglio, è stata la più grave perché lo sversamento è durato circa 19 ore con l'immissione di 450 litri di OxyStrong direttamente a Fossocavone. Questi sono i dati che sono emersi oggi con maggior chiarezza all'interno della Commissione. Abbiamo anche chiesto altre domande al Vice Sindaco e al responsabile dell'ACA per chiarire definitivamente questa problematica che è gravissima. Abbiamo assodato definitivamente che il Sindaco ha emesso un'ordinanza di divieto di balneazione che poi non ha fatto eseguire perché ha ritenuto che ciò non fosse importante per la città. Quindi nel momento in cui c'era una situazione sanitaria molto grave, il Sindaco ha ritenuto che la sua ordinanza di divieto di balneazione non dovesse essere applicata. È una scelta folle, irresponsabile, incosciente, ovviamente che lui paga di fronte alla città.